Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, è forza Juventus. Vi sono piaciute le pagelle in versione corto dell'ultima partita Cagliari-Juventus 2-2, quindi oggi ve le vado a riproporre, anche perché fino a quando in campo avremo questo tipo di output diversamente si potrà parlare di qualcosa di positivo, di qualcosa di bello, anche perché sì, raggiungiamo la finale di Coppa Italia, indubbiamente, certo, ed è il grande punto positivo della serata, però ragazzi mi sono segnato un attimino tutti i risultati delle ultime 14, quindi da Juventus-Empoli 1-1 fino ad arrivare a ieri, Lazio-Juventus 2-1, ed è vero che ieri passiamo in finale di Coppa Italia, ma è anche vero che ieri perdiamo la partita. Il ruolo di marcia è clamoroso, 14 partite, solo 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Troppo poco, ragazzi, troppo poco, non dobbiamo prenderci in giro, per fortuna che la Juventus all'andata di questa partita aveva vinto per 2-0, è quel 2-0 con la vittoria riuscita ad assorbire il risultato negativo di ieri sera, con diverse difficoltà, questo senza ombra di dubbio, non dobbiamo nascondercelo. Siamo in finale, bene così, ma allo stesso tempo preoccupiamoci, preoccupiamoci e anche tanto. La stagione non è ancora finita, se vogliamo provare almeno a portare a casa la Coppa Italia, dovremo veramente fare un'immersione all'interno del fiume dell'autocritica e tornare su tutti i bagnati con la voglia di iniziare a spostare qualcosa nelle ultime 5 partite. Succederà per me assolutamente no e questa è la cosa peggiore, anche perché ne ho parlato nel video in cui andiamo ad analizzare le parole dei protagonisti nel pre e nel post partita, trovate il video qui sopra in commenti e a tal proposito vi ringrazio perché comunque vedo che questi video vanno sempre molto bene, sia quelli delle partite sia quelli dei post partita, quindi sono molto contento della risposta che state dando voi. Non è facile in questo momento parlare di Juventus, anzi è praticamente impossibile, partendo da questo presupposto, il ruino di marcia ve l'ho descritto poco fa, non dobbiamo assolutamente esaltarci per una finale di Coppa Italia raggiunta perché stiamo parlando veramente del niente di fronte al macro problema della Juve. Allegri voto 5 perché non venitemi a dire la risolta con i cambi, io non posso accettare di sentire la risolta con i cambi quando ci sono delle scelte di formazione che sono francamente inaccettabili. Una squadra che per la seconda volta di fila va sotto per 2-0, una squadra che per 7 trasferte consecutive non è in grado di vincere la partita, una squadra che vince soltanto 3 partite nelle ultime 14 perdendone 5 e pareggiandone 6, una squadra che non ha idea da che parte è girata, una squadra che a un certo punto deve essere rimaneggiata e Allegri era lì titubante a bordo campo con i cambi che si confrontava con Landucci e non capiva se doveva farne uno o farne un altro. Una squadra che ragazzi non vince la partita ieri sera, non vince la partita ieri sera, ieri sera i cambi e tra l'altro dopo arriveremo a parlare anche dei cambi, quindi azzeccano la giocata che è diverso, non vinca la partita, la Juventus ha perso anche ieri sera. Bisogna essere felici per aver raggiunto la Coppa Italia, non per la partita, tu hai perso la partita, se questa fosse stata la finale saresti tornato a casa con le lacrime, poi per fortuna la Juventus aveva vinto 2-0 l'andata, ma non esaltiamo questa cosa qui e non venite a dire eh ma 5 anni fa, 5 anni fa Allegri almeno i cambi li prendeva, aveva una rosa più lunga, una panchina più lunga, era un altro allenatore, era un'altra Juve, tutto quello che volete. Noi oggi dobbiamo parlare di quello che è il momento della Juve, 14 partite soltanto tra vittorie la Juventus che è in finale di Coppa Italia, pur perdendo la partita. E se a voi questa roba va bene, significa che non avete neanche un briciolo di amor proprio per la Juve, perché la Juve ci sta urlando aiuto sono in difficoltà, aiutatemi. E questa roba per portare a casa una finale di Coppa Italia non sarà sufficiente, come non è stata sufficiente per portare a casa nessun tipo di titolo negli ultimi due anni e mezzo. Poi magari ci andrà bene quella serata lì, cosa vi devo dire? Siamo convincenti o siamo che abbiamo trovato la serata giusta magari nel caso? Sempre se poi riusciamo a trovarla la serata giusta. Quindi è troppo poco ragazzi, è troppo poco. E poi arriveremo a parlare dei cambi. Perin voto 6,5 perché Sultati Castellanos fa un intervento a fine primo tempo che salva la partita. Veramente salva la partita. Determinante. Una parata decisiva. Questo deve fare il portiere della Juventus. Ieri era Mattia Perin e si porta a casa il 6,5. 4,5 da Alexandro. Io credo che più che colpa sua sia colpa di chi lo fa giocare. Arrivo proprio a questa conclusione che è semplice quanto più efficace possibile. Io credo che nemmeno Alexandro avrebbe schierato Alexandro titolare ieri sera. Ho creato un hashtag a fine primo tempo che è Povero Rugani. Lo condivido nuovamente qui con voi perché ipotizzare nuovamente e vedere Alexandro titolare in Coppa Italia mi fa venire i brividi. Vi devo dire la verità. Siamo a meno uno da Pavel Nedved. A breve diventerà lo straniero con più presenza nella storia della Juve. Diciamo che dal punto di vista della grandezza dei due giocatori e dell'impatto che hanno avuto nella Juventus rimane comunque un divario incredibile. Bremer, voto 5. Nessun difensore centrale della Juventus dei tre ieri sera mi ha convinto. Bremer non è stato per niente efficace in occasione del secondo gol del Tati Castellanos. Quel piede che si sposta non è roba da Bremer. Che ci ha abituato in stagione a veramente prestazioni altissime. Non è roba da Bremer. Se iniziano a mollare anche quelli che ci hanno trascinato e portato lì per tutto l'anno è un bel problema. Così come Danilo non è più Danilo in questa stagione. Danilo ha avuto un calo, un crollo, non so se fisico, psicologico, forse entrambi incredibile in quest'annata. L'errore di marcatura, di lettura, di fisico, anche di contrasto fisico che fa sul Tati Castellanos quando poi Perin fa quella gran parata lì. non è da parte di un difensore di quelli che devi farti dormire sonni tranquilli. Non me li fa dormire oggi Danilo sonni tranquilli. Ieri l'intera elettroguarda della Juventus, quella brasiliana che l'anno scorso era riuscita a mantenere la porta violata per millemila minuti, non è affidabile. Stop. E di questo bisogna discutere anche per il futuro. Kostic voto 5. Nel secondo tempo, quando è entrato UEA, è lì che ho realizzato che Kostic fosse ancora in campo. Come toglie Cambiaso? Ma di là chi c'è Kostic? Questa è stata la reazione che ho avuto. Non me lo ricordavo assolutamente. Poi da sinistra parte quel cross, bla bla bla, da cui nasce il gol di Milik, ma non è che c'è del merito di Kostic, ecco. McKennie voto 5. Almeno ci prova. Io pensavo se fosse rotto tutto là in fondo, da solo. Ho detto, cavolo, gli è partito il tendine a kill. Se si fa male da solo in quel modo lì, è una brutta storia. Poi per fortuna invece aveva soltanto preso un pestone. Poi aveva messo anche una bella palla Blaovic che doveva spingere in rete, ma Malosic è arrivato più veloce e più cattivo di Dusan. Quindi l'assess di McKennie, l'ennesimo assess stagionale di McKennie, non si è concretizzato. Nel primo tempo non è sufficiente. Quindi alla fine credo che il voto giusto sia un 5 e mezzo. Locatelli voto 5. L'ennesima prestazione brutta della stagione. Brutta. Locatelli gioca veramente a nascondersi. È un giocatore che non vuole provare minimamente a strutturare un possesso palla. È un giocatore che si preoccupa soltanto di spazzare. È un giocatore che si preoccupa soltanto di difendere. È un giocatore che però nelle corde non ha solo questa roba qui. E quindi è un bel peccato. Non ci sarà Roma per la finale. Vedremo chi sarà il suo sostituto. Difidato e poi ammonito. Rabbio voto 6. Segnali di risveglio primaverile. Questa forse è la piccola grande notizia positiva della serata insieme alla finale della Juventus. Dico piccola perché servirà a continuità. Però ieri ho visto un rabbio che ci ha provato. Due o tre palle veramente belle servite ai compagni e un po' più di intensità nel finale. Ecco, intensità è la parola chiave che manca a questa Juventus. La Juve non è intensa per niente. La Juventus è passiva. Non passiva solo nella fase difensiva. Passiva in generale in campo. Sembra che debba essere lì per fare un favore al pubblico. Per fare un favore a qualcuno che gli ha detto per favore vai a giocare sta partita. Ecco, per fortuna ieri sera invece Rabbio ha fatto una partita da giocatore importante come deve essere Rabbio. Uno dei pochi che dentro la partita di ieri ha dato il suo contributo in positivo. Cambiaso. Voto 5.5 Anche lui sta facendo fatica. C'è stata una bella azione all'inizio dove poi va a concludere e tira fuori. Però Cambiaso non è sereno. Quant'è che nelle pagelle vi dico Cambiaso non è sereno, Cambiaso è agitato. L'abbiamo visto ieri sera nello sfogo contro Allegri finale. C'è qualcosa che non sta funzionando in generale dentro la Juve. Soprattutto su Cambiaso. Non tira una granare nello spogliatoio. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. 5.5 Voto 5 a Chiesa. Io ho letto un po' di pagelle positive nei confronti di Chiesa. Ha messo una bella palla per Vlaovic su un bel invito di Rabbio. Però ragazzi siamo abbandonati da noi stessi lì davanti. Ogni tanto prendi palla, ogni tanto ti muovi, ogni tanto vai un po' di qua, un po' di là. Ogni tanto provi a crossare. siamo nulli, siamo completamente nulli dal punto di vista offensivo. Ieri sera Chiesa ha perso anche dei palloni che sono troppo facili per lui. Chiesa è molto meglio della versione che stiamo vedendo in quest'annata. Federico Chiesa è un giocatore molto forte e non riesce a farlo vedere. Non ce la fa e perde dei contrasti, dei palloni, dei possessi che per lui sono delle banalità. Banalità. Ma io su Federico Chiesa non mollo ancora. Io dal carro di Federico Chiesa non voglio scendere. Spero che possa rinnovare fino al 2026, quindi un contratto a ponte di un anno per vederlo sotto un'altra guida tecnica. Io voglio sperare che tutto quello di buono che ci è stato mostrato di Federico Chiesa non sia completamente sparito, scomparso, svanito nel nulla. Non posso accettarlo. Voto 5 a Vlaovic, giocatore che fino a qui è stato meraviglioso in stagione. Ci ha trascinato. È stato anche, credo, un leader carismatico da questo punto di vista Vlaovic in stagione. Ieri sera non abbastanza cattivo ad arrivare su quell'invito di McKennie. Non abbastanza cattivo a concludere su quello spunto di Chiesa. Non abbastanza cattivo e basta. Servirà il miglior Vlaovic in finale di Coppa Italia, dove tra l'altro ha già segnato proprio l'Olimpico di Roma. Era contro l'Inter, poi purtroppo la partita è finita con un altro esito. UE ha voto 6, nonostante l'assist per il gol di Milik. Perché UE entra male, ragazzi. Entra malissimo. Sbaglia due o tre passaggi banali. Io ho pure la convinzione che sul gol non volesse servire un assist ben si tirare in porta. E poi il tiro esce male, finisce esattamente sulla lunetta. O comunque tra la lunetta e l'area piccola del portiere. Per fortuna Milik fa una buona lettura. 6 per l'assist, 6 perché l'ha risolta anche se la Juve questa partita non la vince. Però a me è sembrato ancora troppo poco. A maggior ragione l'ha subentrato, dovresti essere fresco e con la voglia di mangiarti il campo per dimostrare che non è giusto che tu non giochi mai. Mi è sembrato ancora troppo poco. Milik, voto 7. Voglio raccontarvi il calcio in numeri. Cosa che non si può fare. È un esercizio inutile perché Milik in Lazio-Juwe tocca 6 palloni. Fa due passaggi. Su due passaggi ne sbaglia due. E ha quattro possessi di palla perso. Voto 7. Migliore in campo. Match winner, tra virgolette, perché la Juve, ripeto, per l'ennesima volta la partita la perde. Match winner, tra virgolette. Perché il calcio è uno sport. Assurdo. Allucinante. Milik fa una lettura meravigliosa. Milik li scommette sull'errore del difensore. Quella è una roba davvero da un attaccante di assoluto livello di esperienza. Milik è molto meglio di quella roba che abbiamo visto quest'anno. Decisamente molto meglio di quella roba che abbiamo visto quest'anno. E io per Milik devo fare lo stesso discorso che ho sempre fatto per Rugani. Avere dei giocatori del genere in Serie A come riserva è un lusso. Lusso è un lusso. Ma noi non ce ne rendiamo conto. Noi non ci rendiamo conto che avere Milik come vice Vlaovic e Rugani come quinto centrale di difesa sia un lusso. E facciamo passare la Juventus per una squadra di scappati di casa. Milik tocca il pallone che deve toccare. Quello giusto per far uscire la Juventus dall'inferno. Provate a immaginare anche i supplementari della partita ieri sera. C'ho il vomito solo a stuzzicare il pensiero. Senza voto Ildis entra a 10 minuti dalla fine. Troppo poco per giudicarlo. Senza voto Alcaraz entra a 12 secondi dalla fine. Non capisco nemmeno il motivo di inserirlo. Però per il meme diciamo. E questa ragazzi era l'analisi delle pagelle del prestato individuale di Lasse Juventus 2-1. Concludo però con una roba collettiva. E cioè Allegri è un grande problema per la Juve. Deve essere cambiato. Il suo ciclo è finito. Non può rimanere sulla panchina della Juventus. Non sarebbe giusto né per i tre anni che sono passati. Né per quelli che sono stati i progetti. Che saranno i progetti per quelli che sono le voglie della Juve. I tifosi della Juventus. Tutto. Non è giusto che Allegri rimanga sulla panchina della Juventus. Per un milione di motivi. Per un milione di motivi. Però io qua vedo dei calciatori. Che magari una partita sì e una partita no. Due partite sì e due partite no. Fanno un favore ad andare in campo. Non potete ragionare in questo modo. A maggior ragione. Nell'unica competizione che potete portarvi a casa negli ultimi tre anni. Dovete mangiarvi il campo. Darmi la sensazione di essere tarantolati. Invece sembra che non ve ne freghi niente. Allegri va cambiato. Ma poi quest'estate quando arriva lì vi dicono Sapete cosa? Non siamo contenti per questo, questo e quell'altro. Non c'era cadere dal pero. Voglio ribadirlo ancora una volta. 14 partite, 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Questa roba non è da Juventus. Ciao.